cari amici cari amici tanti saluti da serafino massoni oggi è martedì 18 giugno 2013 titolo del video verso una società senza padri questo titolo non rispecchia il mio modo di pensare è un titolo già di un'opera di 40 50 anni fa di un grande un grande psicologo alexander mit mit sherlich verso una società senza padri ma 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 io ora sto parlando di un articolo molto preoccupato molto preoccupato apparso sulla sulla rivista tempi sulla rivista tempi un articolo molto molto preoccupato perché si dice che le famiglie adesso sono monoparentali monoparentali cioè c'è o solo la mamma o solo il papà e questo è preoccupante molto preoccupante molto preoccupante tutto ciò questo articolo me lo manda l'amico grifone che è un giovane molto intelligente e che le situazioni le capisce al volo allora cari amici io vi lascerò questo articolo molto preoccupato che appare sulla rispettabile rivista tempi il titolo è il deserto maschile è una società senza padri i numeri che nessuno vuole valutare beh cari amici per cari amici cari amici questa è la mia opera storico mitologica storico mitologica in cui si parla del passaggio dal ma triarcato al pa triarcato il matriarcato è la società dove vige il diritto materno la mater mater il patriarcato e la società dove vige il diritto paterno i patres i patres pater allora siccome queste cose fanno parte del mio pensare ordinario del mio pensare ordinario io dico a voi cari amici andate a leggervelo questo pregiato articolo che di cui vi lascio il link nel riassunto a questo video e poi bisognerebbe scrivere a questa rivista bisognerebbe scrivere a questa rivista la quale quale ha fatto un articolo ben ben documentato sulla scomparsa dei dei padri dei padri oppure sull'aumento delle famiglie monoparentali monoparentali c'è una famiglia una mamma con i figli un papà con i figli non è che i padri sono scomparsi comunque siccome hanno paura che scompaia la figura del padre cari amici voi scrivete a questa rivista qua e dite a questa rivista cara rivista ma chi è che si è mai preoccupato di quanti padri scomparvero in tutta l'europa durante la grande guerra la prima guerra mondiale 1914 1918 quando i padri erano andati in guerra e morivano a milioni 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 in tutta europa prima guerra mondiale fu chiamata la grande guerra durò dal 1914 chi è che si è mai preoccupato di tutti i padri scomparsi a milioni nelle battaglie della prima guerra mondiale e poi chi è che si è mai preoccupato della scomparsa dei padri durante la seconda guerra mondiale 1939 1945 quando i padri scomparvero a milioni a milioni a milioni sui vari fronti sui vari fronti d'accordo d'accordo cari amici e come mai vi preoccupate adesso adesso vi preoccupate e non vi siete preoccupati della scomparsa dei padri ai tempi della prima guerra mondiale o ai tempi della seconda guerra mondiale eppure perché i padri fossero tutti al fronte dove morirono quasi tutti i figli sono cresciuti lo stesso sono cresciuti ma dai tempi per favore tempi rivista tempi faccia una statistica e dici se sono di più i padri che scompariano oggi che si ritirano oggi o se sono furono di più i padri che scomparvero per sempre per sempre andarono in il corso della prima guerra mondiale e nel corso della seconda guerra mondiale cari amici qua mi fermo ringrazio tanto l'amico grifone che mi manda questi pregiati articoli che mi fanno tanto sorridere per la loro malafede cari amici malafede non menzogna è malafede diverso è la malafede va bene cari grazie se mi avete ascoltato e a tutti voi tanti saluti da Serafino Massoni